In passato chi mi ha preceduto molto ha fatto e a noi tocca continuare sul solco di questa tradizione preventiva e repressiva. Il freddo dato statistico dei numeri in realtà ci testimonia che l'impegno che gli uomini e le donne del commissariato mettono a disposizione di tutta la collettività premia. I reati in generale sono in netto calo, purtroppo però abbiamo come punctum dolens della situazione sul dato statistico quella dei furti che è un problema che in questo momento anche per via della crisi economica che sta vivendo l'Italia e il territorio in particolare ha una certa recrudescenza. In generale però possiamo dire che tutto sommato, ripeto, prescindendo dal dato statistico non ci sono problematiche molto particolari. Ci sono alcune attività che stiamo conducendo su alcuni fatti molto spiacevoli, che hanno testato molto allarme sociali in questo territorio per le quali ovviamente ci sono indagini, insomma su quelle non si può riferire. Ma tutto sommato il panorama non è molto problematico, se posso usare questa terminologia. La mafia continua ad esistere, la mafia c'è, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria ogni giorno, quotidianamente, fanno il massimo sforzo per reprimerla e per prevenirla. Non possiamo ancora dire, non può dirsi che la mafia non c'è. Possiamo solo dire che noi facciamo le indagini del caso, facciamo le attività del caso. La mafia si combatte non soltanto con le grosse operazioni, si combatte anche togliendo un'arma a un parente di un mafioso, si può combattere anche imponendo delle prescrizioni ai funerali di un soggetto mafioso. Ci sono mille modi per combattere la mafia. La mafia si può combattere nelle scuole, principalmente va combattuta nelle scuole, per istilare quel sentimento di antimafia che dovrebbe permeare ogni cittadino siciliano. Se dovessimo fare una statistica delle segnalazioni abbiamo ancora dei numeri che non sono assolutamente soddisfacenti. Però Partinico è una realtà che è uscita dal guerretaggio, forse anche un po' mediatico, storico, che l'ha sempre caratterizzata. Come dicevamo poc'anzi si respira sicuramente un'area nuova. Però molto c'è da fare, soprattutto noi che siamo impegnati in prima battuta nel contrasto alla criminalità organizzata. Qual è il bilancio che possiamo fare di questo suo primo anno alla guida del commissariato di Partinico? Il bilancio in realtà non è merito mio, ma è merito di tutto il personale, degli uomini e delle donne che lavorano con me. È un bilancio che per quello che posso dire è assolutamente positivo, perché in quest'ultimo anno è stato consumato un omicidio e il caso è stato risolto dal commissariato. Così posso tratteggiare alcuni dei fatti più importanti, più salienti. C'è stata una grossa operazione che ha portato all'arresto di 23 soggetti per la situazione del delinquo e finalizzata alla truffa. E poi ci sono le attività che forse dal punto di vista della stampa del migliore colpiscono di più. Però quello che io vorrei ricordare è l'attività che nel silenzio svolgono ogni giorno le volanti, svolge ogni giorno il personale dell'ufficio in migrazione, perché qui abbiamo uno sportello in migrazione che cura l'acquisizione delle pratiche, che cura l'ufficio amministrativo. L'attività silenziosa che ogni giorno i poliziotti fanno, quando fanno i posti di controllo, quando arrestiamo un lato di contatori, per esempio, è quella fondamentale che ci permette di avere un ritorno da parte della cittadinanza. L'ufficio denunce, quando raccogliamo per tempo o a domicilio, per esempio, dagli anziani delle denunce. L'attività più bella, secondo me, è questa, quella che ci porta a contatto con il cittadino e quindi cercare di dare risposte rapide e immediate al cittadino. Nell'ultimo periodo ci sono stati diversi fatti di cronaca che hanno portato la popolazione partinicese del territorio probabilmente a non sentirsi più sicura. Cosa può rispondere, in tal senso, il commissariato di Partinico? Possiamo rispondere che il commissariato ha la porta sempre aperta, la mia porta è sempre aperta, mai nessuno è stato detto no in questo ufficio. Sì, ci sono stati effettivamente dei fatti che hanno destato allarme sociale, questo è innegabile. Quello che posso dire e quello che posso ovviamente dire, sottolineo, è che l'impegno nell'accertare la verità è sempre costante, le attività di indagine vengono espletate e nuovamente mi rivolgo a tutti i cittadini perché l'ausilio, le segnalazioni e quello che il cittadino ci vuole dire è uno strumento straordinario per reprimere questo tipo di fenomeni. Noi approfondiamo il massimo impegno in questo lavoro, cercheremo di migliorarlo se ci dovessero essere delle lacune o delle pecche ma su questo posso garantire l'impegno del commissariato e della Polizia di Stato in modo assolutamente totale. Grazie dottor Siracusa per aver accettato la nostra intervista e buon anno. Grazie a voi, buon lavoro e buon anno.